ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video che riccio non che video vlog del mini video vlog allora mi vedete in camera mia come potete ben vedere e alle mie spalle c'è il letto bello fatto perché non volevo fare un video colletto di sfatto e tutto il resto ma vabbè questi sono altri dettagli nel frattempo vi voglio far vedere i regali di natale che mi sono stati fatti da mia madrina di crisi e ovviamente ci tenevo a dirvi che volevo compagnia da lì ma così non è stato ma con questo covid non si sa mai quindi meglio evitare assemblamenti nelle case quindi vabbè niente quindi sono felice tutti i regali che ho ricevuto tutti quelli che ho ricevuto in sostanza oggi ma va bene così comunque nulla qui vedete tutto il letto come potete ben vedere sì vabbè questa è una borsa che devo mettere apposta non è un regalo ma la vedete sempre nei miei video ve l'ho fatta vedere anche prima nel video di ieri se non ero non mi ricordo neanche più e adesso ho cambiato borsa perché domani se esco userò questa come borsa e vabbè nulla niente ragazzi vi stavo dicendo stamattina mi sono svegliata tra le 5 e le 6 del mattino che avevo una sete boia e ho utilizzato quest'acqua ho bevuto qua perché avevo veramente sete quindi ho bevuto qui poi quando potrò farò un tutorial make up cioè su questa palette della douglas perché se voi non lo sapete ho letto ho sentito dire parecchi youtuber americani che non si dice douglas ma dove si douglas quindi abituatevi a sentire da me douglas poi vabbè ognuno fa come gli pare però secondo me è più giusto dire douglas sto rifacendo il video stamattina perché mi sono resa conto che youtube non mi ha caricato il video di stamattina quindi ve lo sto rifacendo oggi stesso cioè oggi stesso lo sto rifacendo stasera dopo pranzo adesso sono già le solo le 5 e un minuto alle 5 minuto ho deciso di farlo questo video non ho preso manco caffè perché non mandava ma vabbè e niente quindi ora mi siedo vi faccio vedere il trucco che ho realizzato oggi senza che entriamo troppo nei dettagli tanto sappiamo bene come è fatto un trucco eccomi qua e dunque allora aspettiamo un po vediamo un po se è messo bene si è messo bene allora dove la palette non mi direi che ho perso la palette che stavo non l'ho persa deve essere aspettate un attimo allora fesseria più grande della mia vita non potevo dire perché la palette era qua sopra dove non so si può capire aspettate un attimo era quassù e io non la vedevo mannaggia me ma vabbè questi sono piccoli dettagli allora ho utilizzato la jewel make up collection di di revolution jevel collection deluxe sarebbe questa che è un po specchiata il pack ma vabbè ce ne faremo la ragione tutta glitterozzi glitterazzi e senza andare troppo senza fare troppi giri parole faccio vedere che questa ha tantissimi bei colori vedete è nulla io ho utilizzato storm e tactic storm e tactic come piega dell'occhio e palpebra palpebra mobile dell'occhio adesso allora appoggio sperando che mi ricordi di averla messa di là e poi vi stavo dicendo come mascara ho utilizzato come mascara se non mi cade nulla è meglio come mascara ho utilizzato questo del rimel scandalize o scandalize leggetelo voi perché non voglio fare figure di non voglio fare figure brutte figure ora bisogna che ridimensionare il parlare perché se uno non si regola nel parlare youtube si fa nel video non capisco perché ma è vero avete le gioie non si possono dire parolacce e non diciamo parolacce è meglio così comunque ecco qui qua vedete il rimel allora questo è lo solito scovolino non mi so non mi so fermo più di tanto vedete questo è lo scovolino mi ci trovo bene impregna tutte bene le sopracciglia le prende bene e le incurva bene quindi nulla da dire perché le ciglia volte di mio non so se si vede al video già e poi e poi e poi questo bellissimo ora sto facendo fesserie ma credetemi mi sta piacendo davvero tanto questo correttore della l'oreal molto buono spugnetta applicatore spugnetta questo invece vedete eccolo qua non è il massimo lo potete anche per lavare con un pennello volendo ma io preferisco di più prelevarlo da qua mi ci trovo comoda e va bene mentre mentre come blush e terra bronzer ho applicato questa qui prima andiamo col blush questa della rimmel che è molto pigmentata infatti vedete adesso se ne vedo di meno perché mi ho appena lavato i denti e tutto e si è levato tutto però e avevo anche come rossetto avevo questo vedete il debbi del lipstick si debbi che è un 0 4 matt oggi è trucco natalizio che ho fatto è questo rimel maxi blush questo qua molto buono molto interessante come colore se riesco ad aprirvelo è un 13 questo bellissimo colore colore pescato pesca 003 wild card bellissimo contate da volte ho detto bellissimo per favore grazie anche questo è della rimmel ed è un bronzer che ho fatto con dunque ma non più di tanto perché io conturi sapete bene che non sono capace ma vabbè bellissimo per questo altro parola bellissimo e nulla come è ultimo step oltre a questo illuminante non l'ho utilizzato perché ragazzi se non mi vedo una chiazza che non ce ne da nessuna parte comunque come il illuminante ogni tanto quasi sempre lo utilizzo a parte oggi questo della highlighter makeup revolution questo si si vede ed è questo che da un pecc meraviglioso ma noi del pecc un ce ne frega una mazza vabbè basta pennelli utilizzato questi che potete ben vedere di amazon prime e di aspetta un secondo un attimo allora vi dicevo pink panda pink panda farmacia o profumeria non mi ricordo forse douglas o limone profumeria non importa comunque questo l'ho preso in profumeria questo online su pink panda e questo da amazon che va benissimo comunque fanno benissimo sul benedetto lavoro preciso e ottimale direi quindi vi consiglio tutti quanti questi pennelli perché sono stupendi meravigliosi e finora dopo di la verità non hanno perso neanche un pelo figuriamoci un po vi ho detto tutto comunque ragazze non vi resta che augurarvi un buon felice natale tanti auguri anche se natale quasi sta terminando una guadigile a tutte e a tutti e poi finito ha finito il video allora vi sto facendo vedere 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 i regali di mia mattina di credizio ma questi sono i regali vabbè questo fiocchetto l'ho voluto tenere perché mi piaceva troppo qua ci sono i porti a tisane vedete tisane ibisco e fragole ecco qua poi questo cos'è frutti di bosco ecco qua che la promozione che non ce n'è per nessuno dolci sogni e del rilassante melange di camomilla tiglio e verbena perdonate i rumori di sottofondo ma me ne frego dalle ragazze abbiate pazienza ma ogni tanto preferisco fare video senza il microfono comunque questi erano i regali che ho ricevuto anche le tisane stra buone non è una collaborazione ragazze sono solo regali oviamo e questo era tutto il pack di questo altro regalo a questo regalo l'altro 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 lo faccio vedere dopo ecco qua questo è il regalo e questo è la scatola vedete che bellina bellissima troppo bella carinissimo poi dove sento farlo cadere poi secondo regalo è in arrivo a farvelo vedere questo è un no si dicevo io ciao buonanotte questo è un una tazza come potete ben vedere con scritto adesso non mi ricordo b j full giugiu full bu non riesco a leggerlo perché è talmente bianco trasparente invisible che non si vede la mazza ma vabbè comunque troppo carina la stanza tazza è gagliata simpaticissima vabbè a parte questo il piattino per sostenere la tazza anche per mettere sopra vedete qua c'è un filtro per mettere sopra il filtro non voglio far cadere niente quindi devo stare attenta con questo faccio filtro vedete per mettere dentro appunto un altro filtro del tè il rifuso sarebbe gli infusi si esatto poi e questa è la tazza in sé vedete carinissima troppo bella 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 con questo manico che adoro adesso questo lo rimetto qua perché non voglio farlo cadere ecco qua vedete già troppo bello a parte questo non me lo fai niente è comodo per metterci dentro il filtro poi questo lo rifiuti aspettate ok ecco qua a posto e nulla ragazze questi ragazzi miei erano tutti i miei regali ricevuti di quest'anno ovvero di questo 2021 natalizio e perché no ho fatto piacere parlare un po con voi e confrontarmi con voi per quanto riguarda i regali ricevuti io spero tuttavia di rivedere il prossimo anno non solo anche l'indomani se riesco a fare altri video voglio continuare con i video sia chiacchicci e non che anche video polizia video svolta la spesa cosa che mia nonna di volta di volta in volta mi propone io mi ribello non perché non voglio ma perché la volta mi trovo stanca io fare altre cose che faccio voi direte perché cosa fai per stancarti allora di solito mi trovo che faccio le pulizie senza registrare oppure che ne so faccio pulizie della mia camera o del bagno della cucina e quella quindi buonanotte che non riesco a accontentare mia nonna ma vabbè questi sono piccoli particolari e poi sì a volte esco anche a fare la passeggiata anche quello mi stanca ecco perché tante volte non ce la faccio proprio registrare i video svuota la spesa all'illuminante mi ha dimenticata illuminante l'ho messo qua già e nonostante mi ha lavato i denti più volte non non se ne è ancora andato un pochettino si meno molto e nulla questo era tutto comunque non vi preoccupate piano piano se mi convinco ma mi dovrei per forza di cose convincere faccio questi benedetti video svuota la spesa che sono carini carissimi si fia a faccia parlare piacciono anche mia cucina tra l'altro un bacio a mia cucina e che anche lei vede i miei video chiacchiericci e non chiacchiericci tutti i tipi di video li iscrivete tutti non so se dall'inizio alla fine ma mi basta anche un peccetto di video basta che aprite il video e lo guardate un po' poi se volete potete anche chiudere è vero che sarebbe bello se lo guardate tutto ma ognuno ha una vita e quindi non mi sembra giusto sta quella degli altri come come facciamo tutti noi di solito e dai me lo guardi tutto il video però molti mi dicono eh ma sai che anche io ho una vita quindi non posso sempre stare su youtube e guardare i tuoi video ed è vero tutti vivo la vita e non possiamo pretendere degli altri di guardare i video degli altri o farli guardare noi i nostri agli altri quindi ragazze a parte questo piccolo discorso che non so se c'entra qualcosa ma per farvi capire che anche io ho una vita mia da gestire come anche credo la vostra che mi seguite ma anche gli altri che mi guardano e che guardano a me o io a voi vi dico concordo con voi avete pienamente ragione quindi nulla questo era tutto un bacio commentate mettete un bel pollicione su spollicciate tutto andare per l'appunto iscrivetevi attivate la campanella fatela diventare nera seguitemi su instagram che non l'ho detto all'inizio e perché no su tiktok e facebook ah vi metto tutti i link nell'info box se mi ricordo se no ve li dico a voce come si suol dire a mia piccola memorietta allora sono fatemi pensare tiktok vabbè ve lo dico perché ve lo dico nell'info box perché se no veramente non riuscite a seguirmi fino alla fine quindi mi fa prima come si suol dire in toscano a metterle tutte nell'info box mi impegno a provare a metterle nell'info box dai e casomai guardo il mio profilo instagram per vedere come sono scritta come sono iscritta appunto instagram come il mio nickname di instagram tiktok eccetera comunque come instagram sono youtuber melania trattino va sotto ciao a presto un bacio e tante belle cose a tutti ciao ciao